Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Caronia nel Messinese e da una truffa all'Unione Europea per oltre 500 mila euro. Per questo è stato denunciato un imprenditore agricolo. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno concluso un'approfondita indagine su un'azienda agricola operante nel comune di Caronia per truffa all'Unione Europea. L'azienda ha ottenuto finanziamenti comunitari illeciti per un valore superiore a 530 mila euro. Le fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata di Militello, sotto la supervisione della Procura Europea di Palermo, hanno denunciato un imprenditore agricolo. I reati contestati sono truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. Di conseguenza sono stati adottati provvedimenti di sequestro preventivo dei beni con l'intento di confisca per un valore di oltre 260 mila euro. Inoltre di 125 titoli di pagamento a GEA per un valore totale di 14 mila 800 euro. Dopo un'approfondita analisi di documenti e registri contabili, i finanzieri hanno scoperto che l'imprenditore agricolo aveva dichiarato di possedere numerosi terreni, principalmente nel Parco dei Nebrodi. Utilizzava falsi contratti di affitto o comodato rurale con firme di ignari proprietari che non erano a conoscenza del sistema di frode orchestrato dall'indagato. Attraverso questa condotta fraudolenta, l'indagato è riuscito a ingannare l'ente pagatore a GEA ottenendo ingenti finanziamenti comunitari per oltre 530 mila euro. Oltre a incrementare ingiustamente le risorse aziendali al punto da accedere indebitamente alla riserva nazionale dei titoli e ottenere ulteriori titoli che ha potuto utilizzare a suo vantaggio negli anni successivi. Tenendo conto delle prove raccolte, con l'accortezza di non presumere colpevolezza fino alla sentenza definitiva, su richiesta dei procuratori europei delegati per la Sicilia e la Calabria, il GIP del Tribunale di Patti ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo delle somme in debite percepite dall'indagato. Tale provvedimento è stato eseguito di recente dai finanzieri di Sant'Agata di Militello, coinvolgendo liquidità e beni immobili che si trovavano in possesso dell'indagato. Da Caronia a Paceco, nel Trapanese, dove i carabinieri hanno invece beccato e tratto in arresto due giovani ladri in trasferta, sorpresi in possesso di 85 kg di cavi di rame che avevano da poco rubato. I carabinieri della stazione di Paceco e della sezione radiomobile di Trapani hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, due giovani di 21 e 22 anni. I militari dell'arma, in servizio per l'ustrativo notturno per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno sottoposto a controllo un'autovettura che procedeva a forte velocità. A bordo, due giovani che alle domande dei carabinieri non riuscivano a spiegare il motivo della loro presenza sul posto, in quanto risultavano residenti uno a Marsala e uno a Salemi. Approfondito il controllo, all'apertura del portabagagli, i militari hanno rinvenuto dei cavi di rame di diversa sezionatura e lunghezza, per un peso complessivo di circa 85 kg immediatamente sequestrati. Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di acclarare che quei cavi erano stati poco prima sottratti da una segheria dismessa di Paceco. I presunti ladri in trasferta, dopo il rito direttissimo, sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni. Restiamo nel Trapanese. Da Paceco ci spostiamo però virtualmente a Castellammare del Golfo, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto due donne sorprese a rubare all'interno di un'abitazione. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato per il reato di tentato furto in abitazione e lesioni personali due donne gravate da precedenti di polizia domiciliate a Palermo. I militari dell'arma, impegnati in un servizio perlustrativo per le vie della città, che sempre più si riempie di turisti in questo periodo dell'anno, sono stati allertati per un tentato furto in abitazione. Nello specifico, le due donne di 24 e 18 anni si sarebbero introdotte, tramite l'effrazione della porta d'ingresso, nell'abitazione di una pensionata ultranovantenne, non in casa al momento dell'irruzione. Mentre le due donne si trovavano ancora all'interno dell'immobile, la figlia della pensionata, che era andata a trovare la madre, si è accorta della porta d'ingresso forzata. Entrando in casa, per verificare quanto accaduto, si è trovata di fronte le due malviventi che, per guadagnare la via di fuga, hanno dato una forte spinta alla sopraggiunta, facendola rovinare a terra. Le urla della donna sono state avvertite da alcuni condomini che hanno dato l'allarme. La pattuglia dell'arma ha raggiunto in pochissimo tempo il luogo dell'evento, riuscendo a immobilizzare le due presunti autrici del tentato furto. All'esito dell'udienza di convalida, entrambe sono state sottoposte al divieto di dimora nella regione Sicilia. Cambiamo argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia arriva da Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane pusher, si tratta di un tunisino, il quale nascondeva la droga da spacciare in un centro di accoglienza. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato un arresto in flagranza di reato di un giovane di 17 anni, di origine tunisina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le continue operazioni di contrasto allo smercio di droga hanno portato l'attenzione dei militari dell'arma su questo giovane, che risultava essere un pusher particolarmente attivo. I carabinieri si sono recati presso la struttura di accoglienza in cui il giovane spacciatore era ospitato, situata nel centro di Catania. Hanno informato il responsabile della necessità di effettuare una perquisizione nella stanza occupata dal 17enne insieme ad altri due ospiti. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo ha mostrato immediatamente segni inequivocabili di nervosismo, negando categoricamente di possedere sostanze stupefacenti. Tuttavia, i militari lo hanno smentito poco dopo, quando hanno controllato il suo armadio e lo zaino riposto all'interno, scoprendo tre involucri di hashish per un peso totale di oltre 90 grammi. Il pusher 17enne è stato immediatamente condotto al centro di accoglienza di via Franchetti di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per i minori. Successivamente, l'arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità. Controlli della Polizia di Stato nel territorio di Modica e Scicli. Siamo ovviamente nel Ragusano. Il bilancio parla di due persone denunciate e di sostanza stupefacente sequestrata dagli agenti. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Modica e Scicli, prestando particolare attenzione alle aree urbane e periferiche nonché ai luoghi di aggregazione. Nello specifico, il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Modica unitamente alla squadra mobile della Questura di Ragusa con il supporto dei reparti prevenzione crimine e di unità cinofile di Catania richiesti dal questore per un rafforzato e qualificato dispositivo hanno attuato mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria con accurate perquisizioni personali e locali nell'ottica della prevenzione e repressione dei reati con particolare riferimento ai reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti un italiano di 54 anni, residente nel territorio del comune di Scicli trovato in possesso di ascisce e marijuana, sostanze celate in un pacchetto di sigarette e di sette piantine di marijuana nel casolare di sua proprietà e un cittadino extracomunitario di 42 anni, residente nel territorio di Modica trovato in possesso di materiale atto al confezionamento della droga e di 8,5 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi occultate in un ombrello nascosto nel balcone di casa sostanza stupefacente che non è sfuggita al fiuto del cane Maui. Nell'ambito dei suddetti servizi di controllo del territorio posti in essere anche mediante le volanti e le moto volanti del commissariato di polizia gli agenti hanno controllato 296 persone e 153 autovetture contestato 8 infrazioni al codice della strada ed effettuato due sequestri amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia di stupefacenti a carico di due soggetti extracomunitari per detenzione di ascisce e marijuana nel centro storico di Modica. Tale attività di controllo del territorio si inserisce nel contesto delle tematiche affrontate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura con pianificazione dei servizi attuati dal questore della provincia di Ragusa con apposita ordinanza. I carabinieri di Taormina hanno invece effettuato dei controlli sui percettori del reddito di cittadinanza. Sono state denunciate 39 persone che ovviamente percepivano indebitamente il sussidio. Si parla di un danno all'erario di oltre 460 mila euro. Vediamo il servizio. Dall'inizio dell'anno, all'esito di accertamenti sviluppati attraverso uno screening che ha riguardato l'esame delle pratiche di oltre 120 persone, i carabinieri della compagnia di Taormina e del nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno denunciato ben 39 persone presunte responsabili di truffa aggravata per aver percepito, senza averne diritto, il sussidio statale del reddito di cittadinanza. Dalle indagini è emerso che 19 percettori, oltre all'abitazione di residenza, risultavano anche proprietari di altri immobili. Una persona, destinataria del beneficio in particolare, è risultata addirittura la proprietaria di tre case situate in una nota località balneare. Inoltre è emerso che avrebbero percepito illecitamente il sussidio anche sei persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui cinque per la commissione di reati nell'ambito del traffico di stupefacenti e uno per reati contro il patrimonio, già condannato per rapina. Sono stati altresì individuati anche dieci cittadini stranieri che avrebbero dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, requisito necessario per la percezione del reddito di cittadinanza. Altri quattro percettori risultavano invece conviventi con soggetti destinatari di altre fonti di reddito, in particolare una donna che è risultata la convivente di un libero professionista proprietario di vari appartamenti. All'esito delle verifiche è risultato che l'Inps, l'ente che eroga il beneficio, ha corrisposto in favore degli indagati, complessivamente, oltre 460 mila euro. Pertanto sono state attivate le procedure per il recupero delle somme illecitamente percepite e per l'immediata sospensione del sussidio. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dello splendido parco archeologico di Segesta che continua a stupire. Stavolta infatti è stato rinvenuto un altare risalente all'epoca ellenistica. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Nuovo prezioso ritrovamento a Segesta, seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione, nell'area dell'Acropoli Sud è tornato alla luce un altare, presumibilmente di epoca ellenistica. Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio, ha affermato il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Testimonianza, ha aggiunto il governatore, di un passato glorioso ancora da scoprire e interpretare. Migliorare la fruizione di questi luoghi significa permettere a turisti e visitatori di vivere esperienze culturali immersive e di godere di un patrimonio unico. Il parco archeologico di Segesta non finisce mai di stupirci, ha invece dichiarato l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Gli scavi, ha aggiunto, continuano a riportare alla luce resti sempre diversi che aggiungono nuove prospettive e chiavi di lettura a un sito dove sono stratificate molteplici civiltà e la conferma di un impegno profuso per restituire valore aggiunto a un luogo affascinante, attrazione per i turisti di ogni provenienza geografica. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata, nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizioni dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronco piramidale in perfetto stato di conservazione e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare e un supporto per una scultura o un elemento di finitura. Parliamo adesso di quanto è avvenuto ieri a Taormina, nella giornata appunto di ieri, nel pomeriggio, è stato fatto sgomberare dagli agenti della polizia locale il palazzo dei congressi, dove tra l'altro si stavano svolgendo le attività del Taormina Film Fest, che comunque è proseguito e prosegue tuttora regolarmente la sua programmazione. L'iniziativa del comune sembra nasca da un contenzioso sulla gara d'appalto relativa alla gestione dei servizi della struttura del palazzo dei congressi, che era stata annullata in autotutela dallo stesso comune di Taormina. Il segretario comunale ha anche avviato le procedure per le verifiche della vulnerabilità sismica per ottenere la certificazione di agibilità del complesso. Ci fermiamo qui, per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione. di Spazio Notizia.